25 d 25 d qua mi sa che qualche aluviano è separato via tutto ah 25 di non mi ricordavo se ce era ahahahah ma 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 Scusa! Grazie a tutti. 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 Sì, questa qua è quella più impegnativa che c'è qua. Ce n'era ancora un'altra in là, ma l'ha anchiusa. Bello, c'è un po' di ripidoni. E' un po' di insetti in bocca. E' un po' di insetti in bocca. E' un po' di insetti in bocca. Rientro. Un po' di insetti in bocca. Un po' di insetti in bocca.